Sarà come un grande fratello e gli occhi delle telecamere saranno puntati sulla città. Saranno installate 85 videocamere nei punti ritenuti a rischio. Si partirà da Piazza Garibaldi, dove entro il prossimo mese saranno installate le prime videocamere. A giudicataria della gara d'appalto, una ditta di Monza, che inizierà a breve i lavori per un importo di circa 300.000 euro, che sono interamente finanziati dalla regione tramite la comunità europea. Il sistema di videosorveglianza prevede la collocazione dei punti di ripresa, telecamere speed e telecamere di tipo fisso e a colori, in varie zone del territorio del comune e collegate direttamente alla centrale operativa della Polizia Municipale, nella quale saranno installate le apparecchiature di controllo e di registrazione dei flussi del sistema, che sarà in grado di visualizzare simultaneamente flussi video in tempo reale.